C'è sempre Filippo Poletti, top voice di LinkedIn, che ci dà una visione positiva del lavoro. Anzi, forse oggi è ancora meglio averlo perché appunto nel Blue Monday il buon lavoro di Filippo Poletti è fondamentale. Il buon lavoro è quello che lui fa tutti i lunedì con questa rubrica con noi dove ci dà le notizie migliori sul mondo del lavoro e il buon lavoro è quello che fa invece tutti i giorni su LinkedIn raccontando il mondo del lavoro. Mondo del lavoro che è sempre molto bistrattato, insomma non è facile raccontarlo, invece noi abbiamo colui che ne sa parlare molto bene appunto Filippo Poletti. Quindi buon lavoro Filippo e dai dacci le notizie di oggi, sentiamo un po' che cosa ci racconti. Buon lavoro a tutti. La prima parola chiave della settimana è empatia. Il successo di un'azienda ha autenticità ed empatia nelle relazioni. Lo dice uno studio condotto su un campione di oltre 6.000 professionisti da parte della società milanese Hacking Talents. Questo è quello che dice la CEO Federica Pasini. Lavorare in un contesto caratterizzato da relazioni positive, comunicazione chiara e possibilità di crescita sia dal punto di vista professionale che personale è un fattore imprescindibile anche per la cosiddetta retention dei talenti. Avanti tutta dunque con l'empatia anche nel 2024. La seconda parola chiave della settimana è smart working al 100%. Lo prevede Open Fiber in caso di familiari da accudire. Interessante all'interno dell'accordo anche il conteggio bimestrale dei giorni di lavoro da remoto. Esigenze diverse dunque, organizzazione diversa del lavoro. La terza e ultima parola chiave della settimana è settimana corta. Non è un gioco di parole. Accade a Magister Group con sede a Milano e in altre città d'Italia. Non è importante quanto una persona trascorre in ufficio, quanto piuttosto il raggiungimento degli obiettivi. Lo racconta la CEO Simona Lombardi. Dall'introduzione della settimana corta in Magister Group lo scorso febbraio sono aumentate la produttività, la marginalità e l'attrattività del gruppo. E per il 2024 è previsto un aumento di organico dell'8%. Esperimento interessante da seguire. Buon lavoro a tutti!